C'è un argomento prioritario che viene prima nel partito, gli elettori ci hanno dato un segnale chiarissimo, vogliono una linea del governo diversa, vogliono che si faccia la riforma fiscale vera, vogliono una riforma economica perché tenere i conti in ordine è essenziale ma non è sufficiente, bisogna dare una spinta agli artigiani e commercianti, alle imprese che investono ed esportano e ci vuole un federalismo che non significhi come è stato finora punizione delle regioni virtuose e dei comuni virtuosi, quindi il tema del programma di governo è essenziale, poi parleremo anche di partito, mi auguro almeno che sia così, il mio intervento sarà nella direzione di mettere in ordine le cose su cui intervenire, prima il governo poi anche il partito.